L'ospedale in centro, ospedale a Padova Est, la campagna elettorale si infiamma prima del ballottaggio. La protesta dei medici ricercatori dello Iov precari da sempre e mai assunti. Si cita da record nella bassa Padovana, nella prima metà dell'anno l'agricoltura sta soffrendo, arriva la denuncia. A undici anni dall'inaugurazione nessuno si è più preoccupato di finire la passarella ciclopedonale di Ponte Rosso. Telespettatori di Rete Veneta, buonasera, partiamo con le informazioni che arrivano da Padova in apertura. Ovviamente domenica il ballottaggio tra i due candidati alla poltrona di primo cittadino della Città del Santo. La campagna elettorale è già infiammata e allora oggi si è discusso molto sul tema dell'ospedale. Sentite le posizioni nettamente contrapposte. Il futuro della sanità a Padova infiamma il dibattito elettorale a pochi giorni dal voto. Uno scontro che si consuma attorno alla realizzazione del nuovo ospedale a Padova Est. Un progetto caldeggiato da Massimo Bitonci assieme all'assessore regionale alla sanità Luca Coletto e al presidente della commissione sanità a Palazzo Ferrofini Fabrizio Boron. L'università, la regione, l'azienda, lo Iov vuole il nuovo ospedale a Padova Est e io farò quello che mi chiedono i padovani e l'università e la regione. Cioè dare un'area di 500.000 metri dove finalmente dopo anni si potrà studiare, progettare, realizzare il nuovo ospedale di Padova. Diversa la posizione di Sergio Giordani e Arturo Lorenzoni che propongono una soluzione alternativa. Un progetto di adeguamento dell'ospedale Giustinianeo che, affermano, garantirebbe lo stesso risultato con minori costi. Noi siamo costruttivi, prammatici e vogliamo essere trasparenti, vogliamo capire tante cose. I soldi pubblici vanno rispettati, sono molto, molto importanti. Quanto si risparmierebbe più o meno? Quanto risparmierebbe i cittadini per ottenere lo stesso risultato? Mezzo miliardo. Per poco. A mezzo miliardo sa quante cose ci riescono a fare? Non avete neanche idea. Allora, dal nuovo ospedale allo Iov, perché questa mattina c'è stata la protesta dei ricercatori precari. Sentite. Sono scesi in piazza questa mattina i lavoratori precari dello Iov, eccellenze per la ricerca. Perché tra Job Act e Decreto Madia sul pubblico impiego, i co-co-co della pubblica amministrazione sono stati sì eliminati, ma non è stata pensata nessuna soluzione alternativa. Chiedono di ricevere un trattamento contrattuale che permetta loro di lavorare e vivere dignitosamente e che i diritti fondamentali dei lavoratori, come malattia o maternità, siano riconosciuti. Molto di loro hanno storie di precariato lunghe dieci anni, con il rischio che questi lavoratori, che sono stati pagati con soldi pubblici e privati, come il 5 per mille, emigrino all'estero esportando conoscenze ed abilità. Con loro si schiera la dirigenza dello Iov che ricorda come l'istituto ha messo in atto una serie di iniziative volte a evitare qualsiasi arresto dell'attività di ricerca e cura. Per garantire la continuità, infatti, sono stati indetti nuovi bandi con durate triennali. C'è stato un incidente stradale, siamo a Sacco Longo, andiamo a vedere le immagini che sono state postate proprio dai vigili del fuoco, raccolte anche dal sito del Gazzettino. Questa è l'auto alla guida a un'anziana che è finita proprio dentro al fossato, la donna è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo, ci ha voluto un po' per tirare fuori la donna dalle lamiere. Fortunatamente è stata portata in ospedale ma non è in pericolo di vita. Adesso invece un altro pericolo, quello dell'agricoltura, delle nostre coltivazioni. Andiamo nella bassa padovana dove le associazioni di categoria hanno lanciato l'allarme legato alla siccità. Minella, ma questa è una pianta d'aglio? Sembrerebbe sì una pianta d'aglio, invece questa è stata appena raccolta, questa invece è una pianta di mais. Cosa gli è successo? Questa è estremamente in sofferenza, vede le radici, praticamente una pianta alta un metro, poco più di un metro dovrebbe essere alta in questo periodo a metà giugno, dovrebbe essere alta 3 metri, 4 metri. Un primo semestre 2017 con una scarsità di piogge da record nella bassa padovana, solo 180 millimetri contro gli oltre 400 dello stesso periodo del 2016 e a soffrire non è solo il mais. La barbabietola dovrebbe essere di 10 centimetri di diametro con un fittone unico, questa poverina cerca di trovare l'acqua dove può e non trovandola comincia a emettere radici, questa ovviamente non produrrà nulla. Invendibile? Sì, questa invendibile poi marcirà. Eppure a poca distanza dal campo dove sono nati questi prodotti sottosviluppati, Minella segnala di altri terreni dove il mais è alto 4 metri e mezzo, un grande risultato dovuto all'irrigazione delle radici e non più a pioggia. Con delle manichette gli agricoltori riescono con questa tecnica abbastanza innovativa che ha poco tempo a irrigare direttamente le radici, quindi distribuendo pochissima acqua. Gli agricoltori padovani chiedono per il futuro a consorzi di bonifica e regione la realizzazione di bacini per la raccolta di acqua piovana per sopperire alla cronica carenza idrica. Andiamo a Veggiano adesso. Dennis perse la vita a soli 17 anni a causa forse di una buca non segnalata in un quartiere. Ora c'è un'inchiesta aperta per omicidio stradale. La procura di Padova su iniziativa del pubblico ministero Cristina Gava ha aperto un'indagine per omicidio stradale sulla morte del 17enne Dennis Rampazzo, deceduto in un incidente a Veggiano in via Capitello il 20 giugno scorso. Due le persone finite nel registro degli indagati. Il titolare dell'impresa di costruzioni che aveva aperto il cantiere per l'allargamento del Ponte Rosso è il responsabile della sicurezza del cantiere stesso. La procura ha nominato dei periti per stabilire le reali cause dell'incidente avvenuto giovedì notte in via Capitello a Veggiano. Dennis Rampazzo era uscito attorno alle 21 per un giro in moto con la sua Enduro. Non vedendolo rientrare i genitori allertarono i carabinieri. Le ricerche scattarono nell'immediato a trovare il corpo senza vita del 17enne furono i militari della compagnia di Padova. Dennis era finito con la moto in una grossa buca scavata lungo la strada all'altezza del Ponte Rosso di Trambacche. La protezione della buca non sarebbe stata a norma. Su questo si basa l'accusa. Martedì mattina il sostituto procuratore Gava ha affidato l'incarico per l'autopsia del ragazzo. Grazie mille. Raccontando attraverso le immagini che raccogliamo. Siamo stati alle chiuse di Volta Barozzo, siamo stati all'ex forboario. Questo tema è dedicato alla Tg Linea Aperta della settimana, incentrato ovviamente sui parchi pubblici, perché da qui è partita la segnalazione delle mamme, parchi pubblici in mano alla criminalità. Diteci la vostra, fatelo con un sms oppure una mail all'indirizzo redazione chiocciolareteveneta.it E per collegarci a questo nostro Tg Linea Aperta, uno spazio di ascolto con i cittadini, adesso vi raccontiamo che fine ha fatto la pista ciclopedonale di Ponterotto. Mancano appena 100 metri, un'inezia, ma per completare l'ultima tratta della pista ciclabile che percorre il confine tra Padova, Villa Franca e Rubano, mancano anche i soldi. 11 anni fa l'inaugurazione in Pompa Magna dell'Opera, ma a Ponterotto il percorso si interrompe bruscamente. Questo bel ponte che vedete alle mie spalle è stato realizzato nel 2006. C'è una pista ciclabile che poi gira verso destra, ma come vedete si interrompe esattamente in prossimità della strada provinciale. Una strada provinciale dal traffico elevato, tra i ciclisti e i pedoni che si sono avventurati nel suo attraversamento, in paese ci raccontano non sono mancati gli incidenti. Ora il comune di Villa Franca ha deciso di risolvere il problema, ma secondo il progetto l'ultimo tratto non correrà a lungo la riva del Brentella, ma dal lato opposto della strada a ridosso di negozi e locali. Proprietari e gestori temono un danno per le proprie attività. I lavori finali della ciclabile di Villa Franca rischiano di avere una coda polemica, tutt'altro che facile da risolvere. Noi ci fermiamo qui, ovviamente l'appuntamento che vi segnalo è quello con Focus, l'informazione in diretta da Treviso con il direttore Luigi Bacialli e i suoi ospiti. Vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Buona visione. Correte a Veneta. Le previsioni per domani. Cielo sereno o poco nuvoloso, soprattutto al mattino, dalle ore centrali parzialmente nuvoloso, specie su zone montane e pedemontane. Precipitazioni assenti al mattino, probabilità al più medio-bassa dal pomeriggio di locali rovesci o temporali sulle zone montane e pedemontane. Temperature senza notevoli variazioni, salvo le minime in pianura che saranno in contenuto aumento.